Buongiorno a tutti, io sono Mirko Zulian e con questo video vorremmo vedere i primi passi da fare per gli aderenti al gruppo di MD. Andiamo sul gruppo, innanzitutto vediamo il gruppo, abbiamo creato un gruppo che si chiama MD, Movimento Disoccupati, come sapete non è solo riservati e disoccupati, ma lavoratori precari, chi ha difficoltà economiche, chi è casalinga, insomma per tutti quelli che vogliono avere un piccolo riscatto all'interno del lavoro online. Per fare i primi passi noi abbiamo creato nella sezione file un documento che trovate qua, i primi passi da fare nel team, andate a cliccare su file e i primi passi, qui ho elencato tutti i vari passaggi da fare per iniziare a farci conoscere, per fare un po' di pubblicità. È un discorso molto semplice perché è un discorso di fare solamente un copy and colla, ho inserito qua un documento che andiamo ad aprire, in questo documento abbiamo tutte le frasi già impostate, divise per noi, in questo momento sono 9 ma lo amplieremo perché comunque è anche bene cambiare ogni tanto il messaggio. Subito dopo alle varie frasi abbiamo i link, tutti questi link MD1, MD02, 03, 04, 05, 06 portano tutte alla stessa landing page. Abbiamo fatto più link perché Facebook quando c'è una pubblicità di massa su un link unico tende a bloccare e a segnalare il link, quindi ho creato più link proprio per evitare questi blocchi. Poi ne creeremo probabilmente degli altri quando arriveremo a fare una grossa pubblicità di massa e quindi avremo bisogno di diversificare i vari link. Quando l'utente va a cliccare sulla pagina si apre la landing page, che è questa, dove all'interno della landing page ci sono i post per il progetto generale, i post per i dettagli, quindi tutti i vari dettagli e alcuni punti di forza del progetto. Dopo non farà altro che mettere il suo nome e cognome, la sua mail oppure collegarsi direttamente con me. Il discorso del collegamento è della landing page unica, è proprio per evitare magari che si creino degli attriti perché dice magari io ho fatto 20 persone, io ne ho fatte 5, non ne ho fatte neanche una. Tutti facciamo un piccolo lavoro di pubblicità, quindi sia networker più esperti, sia neofiti, sia chi non ha mai lavorato online. Quindi andiamo a fare lo stesso lavoro all'interno dei vari social, in questo caso utilizzeremo per il momento Facebook, ma poi possiamo tranquillamente ampliarlo su altri social e da qui tutte le entrate vanno a confluire nelle pagine come un funnel, diciamo come un imbuto, arrivano direttamente nella mia mail e io gli invio una frase, gli invio una mail di conferma che la trovate sempre nel documento di Google, frasi per l'autopost, dove c'è tutta la mail che viene inviata. Ok, come facciamo a fare l'annuncio? Facciamo un esempio, allora apriamo innanzitutto, se siete con un pc, WordPad, vedete che è molto 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 semplice, apriamo WordPad, prendiamo una frase, prendiamo la seconda, facciamo copia, ho sbagliato, ho sbagliato, allora copia, andiamo su WordPad, incolla, andiamo a capo, prendiamo un link, copia, incolla, abbiamo fatto il nostro post, copia, andiamo su Facebook, home page, entriamo nei gruppi, cerchiamo magari di farlo in gruppi dove sono riservati al lavoro online, perché non vogliamo fare uno spam massiccio, ma vogliamo informare le persone che sono in determinati gruppi di lavoro, adesso ho preso questo qui, non facciamo altro che fare, tac, incolla, se non ci piace questa possiamo chiuderla, oppure possiamo inserire una foto, scusate ma il mio computer è un po' lentino, quindi possiamo andare a prendere una foto, cerchiamo sempre foto che riguardano un gruppo, perché se no, se non riguardano il gruppo non sarebbero pertinenti al nostro messaggio che vogliamo dare, perché non mi ha tirato fuori le foto giuste, forse l'avevo messa qui nella cartella, dov'è che è? fototeam, eccolo qua, possiamo prendere magari questa, apriamo, e facciamo pubblica, intanto vedrete, vedete intanto i vari aggiornamenti che mi vengono fuori, ok, avete visto? Abbiamo messo il nostro post, quindi molto semplice, senza grossi problemi, ne facciamo da una ventina, al massimo una quarantina, però ho sbagliato perché è una foto che non va bene, modifica post, togliamo via la foto, ok, ne facciamo da una ventina a una quarantina di annunci al giorno, se vengono fatti da tutti, otterremo dei risultati veramente importanti, perché iniziamo ad essere già abbastanza come come totte di persone, e iniziano ad esserci una ventina di entrate al giorno, il che non è male, però vogliamo arrivare ad averne almeno una cinquantina, cinquanta, o addirittura, andando avanti col tempo, anche un centinaio. Per il resto vi rimando ai prossimi video riservati al gruppo MD, e vi ringrazio per l'ascolto, e ci sentiamo presto nel gruppo. Grazie mille!